Come rimorchiare una ragazza, Chuck? Ciao, ciao, e dopo che ti ho visto... Diggiando, manca, ti metti? Oi, ciao, ti volevo fare i complimenti per lo stile, è uno stile alla madonna. Vero? Sì, però non ci credi manco tu. Ok, vai, riproviamo. Oi, ciao, comunque è un bello stile, mi piace. Ah, grazie. Sì, perché tipo da un po' che ti ho notato una stazione. Ho detto quasi quasi la stupro, però prima di chiedere il permesso. Io vengo da tre... Cazzo, sei bellissimo quando mi guardi con questi occhi. Allora, Dio porco. Scusa. Allora, togli te coglioni, Dio porco. Vabbè. No, veramente, c'è un bello stile, complimenti. Ma sai perché, perché da sei anni che faccio sta scuola, in sei anni non ti ho mai visto, a parte quest'anno. Vero? Sì, secondo me ti sei iscritta da poco in qualche scuola. C'è da senso, è vero. Vero, buttata che sei. Oddio, no. No, aspetta. Devo dire che ho un bello stile, mi piace, complimenti. No, perché tipo, che cazzo di problemi hai? Se una ragazza mi fa così, come minimo, l'ammazzo di botte. Devo fare i complimenti per lo stile, veramente, complimenti. Ti ringrazio. No. Ma te fumi? No. Hai un bello stile, veramente. Lo so, me l'ho detto. Com'è? Lo so, me l'ho detto. Lo so, me l'ho detto. Grazie a tutti.